Grazie a tutti. Ma per fare questo, come dicevo, il digitale gioca un ruolo cruciale. Tu in questi anni, con tutti i progetti, gli acceleratori che hai fatto in Italia, la Francia, tutte le tue esperienze, no però, tanti cohort diciamo, sicuramente hai avuto l'occasione di toccare con mano quanto il ruolo del digitale è cruciale e quindi io vorrei sapere da te un pochino quello che hai visto succedere e quello che secondo te oggi è necessario per far sì che questa transizione venga accelerata. Dopo poi diamo spazio alle start up che ci raccontano i loro casi. Adesso non so se il tema è soltanto il digitale, cioè il tema è generalmente di tutta l'innovazione e della disponibilità di tecnologie abilitanti. Io penso che la cosa che noi spesso qua in Italia ci raccontiamo un po' troppo addosso è che quello che è successo nell'ultimo quarto di secolo, più o meno da quando è cominciata la grande rivoluzione di internet, e via scorrendo, è che l'innovazione ha cambiato forma e passo. L'innovazione prima si faceva prevalentemente dentro le aziende, dentro le centri di ricerca, dentro le università e via scorrendo. Quello che è successo a partire più o meno dai primi anni 90 è che tu hai visto tutta una serie di grandi tecnologie abilitanti, la prima la più ovvia, il software, internet, eccetera, eccetera, ma anche in tantissimi altri ambiti. Basta pensare che cosa significa oggi fare un sequenziamento genetico rispetto a vent'anni fa. E questo che cosa significa? Significa che tu hai la possibilità con relativamente pochi capitali, quindi, di lanciare innovazioni totalmente non previste, out of the box, potenzialmente disruptive, non pianificate, spesso che non vede arrivare nessuno, e appunto con poco capitale, mentre tradizionalmente l'innovazione è sempre stata qualcosa che ha richiesto grossi investimenti di capitale. E questo fatto è il principale driver di tutta l'innovazione tecnologica negli ultimi 25 anni. Questo fenomeno poi ha cominciato a toccare l'industria agroalimentare, appunto come dicevi tu prima, più o meno nel 2012, diciamo una decina d'anni fa. E' arrivata anche a questo settore. Forse questo è stato l'ultimo settore investito da questa ondata. Ed è qui il tema che noi dobbiamo capire, cioè quali sono gli ingredienti, gli strumenti, le condizioni di ecosistema che fanno sì che questo tipo di innovazione si sviluppi e quali, per converso, sono quelle che invece hanno un effetto più, diciamo, deleterio. E guardate che qui le risposte possono essere molto, molto sorprendenti, no? Cioè, per esempio, tradizionalmente il mondo del venture capital, si è sempre guardata la regolamentazione come qualcosa di fortemente inibente, no? All'innovazione. Quello che noi stiamo vedendo, invece, proprio in questo settore dell'agri-food, che invece uno dei principali driver di innovazione può essere proprio la regolamentazione. Cioè, il fatto che la regolamentazione, spesso anche una regolamentazione introdotta abbastanza in maniera brutale, senza stare neanche tanto a considerare gli interessi singoli economici dei vari soggetti che vengono interessati, perché c'è anche una regolamentazione populista alle volte che arriva, questo poi mette una tale pressione sugli attori economici che li costringe a trovare soluzioni. E questo genera una domanda di innovazione che poi dà la possibilità a tante aziende di... Cioè, noi lo stiamo vedendo, per esempio, nell'agricoltura in Italia, no? Dove tutta una serie di fattori, incluso, tra l'altro, anche degli ottimi crediti di imposta che vengono dati al governo, stanno incentivando l'adozione di soluzioni di precision farming, in una maniera a dei tassi che probabilmente non vediamo da nessun'altra parte del mondo, cioè poche altre zone del mondo, no? E con l'associazione Agri-Food-Tech Italia, cioè, quando tu mi hai chiamato e hai detto stiamo facendo questa associazione, è necessario iniziare? Mi viene da dire quali sono un po' i numeri, i dati, la misura di quello che abbiamo cominciato a capire lavorando in Italia? Perché tu hai un'esperienza internazionale che ti ha portato a lavorare con il venture capital, l'innovazione, le start-up, in tante parti del mondo. Sicuramente in Italia hai trovato un terreno magari ostico sotto certi punti di vista, ma probabilmente anche tante opportunità. Ma sì, cioè, l'Italia, per chi ha capitali, continua a rimanere, quello che potremmo dire, definire un buyer's market, no? Continua a essere un mercato in cui il coltello della parte del... il manico del coltello ce l'ha in mano l'investitore, no? Perché è un mercato che tendenzialmente ha ancora pochi capitali rispetto all'offerta di innovazione. Mi sembra che Antonio diceva prima, no? Che noi siamo tipo il quarto per start-up e il decimo per capitali investiti. Forse anche peggio, secondo me. Però questo ovviamente, questo squilibrio favorisce in qualche modo gli investitori, no? Ed è un problema che poi magari faccio vedere con due slides volanti che riguarda in particolare il settore del SID. Che cosa dobbiamo fare? Chiediamo il telecomando, che così ci fai vedere le slide. Ok. Sì, no, siccome hanno detto di fare una cosetta sull'ecosistema, magari già conoscete queste cose, quindi, insomma, fate facce brutte se... Eh, proprio è una presentazione rapidissima, eh. Allora, dove devo puntare? Va acceso? Questo sta facendo... Rock and roll, vai. No, mi spiace. Ok, possiamo muovere, alla prossima? Ok. Vabbè, questi sono i numeri del venture capital, no? Dicevamo, 2012. 2012 stavamo parlando, non si vede neanche il numero esaltato, neanche 2 miliardi di dollari investiti a livello globale nell'innovazione dell'agri-food tech. L'anno scorso, questo è un dato parziale in realtà, 52 billions, quindi, cioè, abbiamo moltiplicato per 25 l'ammontare di capitale investito nelle start-up agri-food tech. Probabilmente il numero conclusivo sarà intorno ai 60 miliardi. Questo vuol dire che l'anno scorso il totale degli investimenti fatti nelle start-up dell'agri-food tech è letteralmente raddoppiato rispetto all'anno precedente, che già cresceva in maniera consistente, aveva già fatto più o meno più 30%. Questo significa, ovviamente, che questo è un settore che è esplodato, è diventato uno dei maggiori settori di investimento nel venture capital. Rappresenta più o meno intorno al 10% del totale degli investimenti di venture capital nel mondo. Quindi metteteci dentro il software, l'hardware, il fintech, l'incher-tech e tanti altri settori. Possiamo andare alla strada di successione? Cioè, veramente, mi ci metto io là. Da che cosa è derivata questa crescita? Direi fondamentalmente da tre fattori. Il primo è quello di cui parlavo prima, no? Cioè, questa nuova ondata di innovazione disruptive a bassa intensità di capitale. Per le start-up il capitale è sempre intensissimo, però la verità è che stiamo parlando di un modello economico che invece è a bassa intensità di capitale e che promette altissimi ritorni. Ed è un settore che già nelle sue prime aree di sviluppo, che sono state quelle, diciamo, del delivery, della distribuzione, dei nuovi food, eccetera, eccetera, ha già, come vedete, restituito agli investitori qualcosa come sei, sette volte quanto avevano investito. Come mercato è stato veramente un risultato incredibile. Però accanto a questo, adesso, soprattutto in concomitanza con la pandemia, abbiamo visto anche altri settori che stanno veramente prendendo forma. E possiamo andare alla slide successiva. Ok, grazie. Però non è soltanto la questione di tecnologia e di ritorni economici. Come dicevamo prima, c'è anche il tema della regolamentazione e, in generale, della sostenibilità. Io insisto sulla regolamentazione. Cioè, sperare che i soggetti economici si autoregolino, diciamo, a parte a livello di comunicazione e marketing, è sempre complicato se non interviene il legislatore. Il legislatore sta cominciando a intervenire e questo è un driver pazzesco nell'innovazione. Ci sono delle storie incredibili che abbiamo visto. Cioè, la regolamentazione, anche alle volte, in maniera brutale, forza gli attori economici a poi prendere decisioni e a trovare soluzioni. Andiamo sul terzo driver, che è quello che direi molto legato al boom che abbiamo visto. Vai, prossima slide? Ok, grazie. Ed è il Covid. Sì, il Covid e non solo il Covid. A questo punto ci metterei dentro anche il conflitto in Ucraina. perché il Covid prima, e probabilmente questo conflitto ancora di più, sta mettendo in evidenza delle fragilità sistemiche che devono essere affrontate. Ma non è soltanto una questione di fragilità. Abbiamo visto nuovi modelli di consumo imporsi, come quello del delivery, del direct consumer. e stiamo vedendo anche altri fenomeni che, secondo noi, avranno un impatto enorme sul settore, come per esempio il cosiddetto fenomeno del biotech spillover. La pandemia ha portato tantissimi investimenti nella ricerca del biotech, soprattutto in ambito farma. Sappiamo che ogni volta che succede questo, poi c'è una ricaduta, uno spillover, che finisce anche in altri settori. E il primo settore a essere interessato è generalmente quello dell'agri-food. E poi non parliamo delle nuove modalità di esperienza che stanno venendo fuori. Ok, andiamo alla prossima. Grazie. In tutto questo, ovviamente, quello che stiamo vedendo, sono felice che oggi vengo a conoscere che c'è un altro incubatore che si occupa di queste tematiche. Noi contiamo circa 250 organizzazioni al mondo che fanno incubazione, accelerazione, start-up factory, start-up foundry, eccetera, eccetera. Queste 250 organizzazioni ogni anno pompano nel sistema qualcosa come 2.000, 3.000 nuove start-up innovative. Quindi c'è veramente una grande massa di originazione. Andiamo alla slide successiva. Però vi ho fatto vedere come cresce gli investimenti di capitale. Però abbiamo anche dei problemi. Il principale problema è rappresentato dal fatto che abbiamo tantissima originazione, abbiamo tantissimo capitale che va nelle cosiddette stage del early stage o del later stage, che vuol dire del venture capital, probabilmente detto, abbiamo un grosso gap in mezzo, che è il cosiddetto stage seed. Questo è un grosso problema perché lo stanno vedendo gli investitori diciamo professionali che vedono le valutazioni andare molto in alto perché non hanno accesso a opportunità di investimento, ma al tempo stesso è anche un grandissimo problema per le start-up perché fanno veramente molta, molta fatica a fare quel salto di investimento nel seed. C'è un problema strutturale qua. Il seed tipicamente è un investimento locale, abbastanza concentrato sul mercato nazionale. Non entro nel merito del perché avviene questo. Mentre invece gli investimenti più professionali, quelli fatti dai fondi VC, riescono a essere più transfrontalieri, più internazionali. Quindi che cosa vuol dire questo? Anche una start-up italiana una volta che ha passato il seed riesce abbastanza facilmente a trovare la via per fare la serie A, mentre invece per converso il seed rimane soprattutto in Italia un grosso, grosso problema. Possiamo andare alla slide successiva? Ok, ma parliamo appunto dell'ecosistema italiana. Questi sono numeri brutali che io ho collezionato personalmente andando a spulciare il registro imprese start-up. Quindi non sono numeri attendibilissimi, almeno un 20-30% di queste cose non sono neanche propriamente delle start-up, io le definirei. Però sono comunque indicativi. Come vedete, questo è un ecosistema che è stato lanciato, potremmo dire, nel 2014, quando ci fu l'Expo, il lancio anche di Seeds & Chips, e che costantemente è cresciuto, è diventato molto significativo. e con tutta una serie di iniziative che si sono sviluppate tra cui anche Startup Bootcamp che l'acceleratore l'ho lanciato io. Andiamo alla prossima. E in questo periodo, come dicevo, l'Italia è messa molto bene dal punto di vista dell'originazione. Noi ne creiamo tante, le start-up, e anche di buone. Abbiamo costruito un ecosistema abbastanza articolato. Qui vedete i nomi principali, probabilmente me ne so, comincio a scordarmene qualcuno, diciamo fondi acceleratori che hanno veramente incubatori, che hanno veramente dedicato delle risorse all'agri-food tech. E come vedete, cominciano ad esserci anche una serie di corporates, di aziende che sono fortemente attive. E non solo, abbiamo anche dei soggetti italiani all'estero che sono molto rilevanti, come per esempio il fondo Five Season Ventures, che è un fondo istituzionale basato a Parigi, ma è tecnicamente un fondo italiano. perché sono tre founders italiani. Ok, andiamo a quella dopo. Questi sono i numeri un po' spulciati meglio, no? E qui vedete la magagna, se volete. Cioè, a fronte di tutte quelle aziende che sono state dichiarate nel registro delle imprese, poi si è andata a vedere quelle che effettivamente sono riuscite a fare un pre-seed, questi sono soltanto i pre-seed, o addirittura i seed, c'è un tracollo fortissimo in termini di numeri. Ed è sicuramente uno dei grossi problemi che noi dobbiamo affrontare. Possiamo andare alla prossima. Come è strutturato il paese da un punto di vista geografico? Qualcuno diceva prima, mi fa piacere, qualcuno ha detto che siamo al terzo, la regione della campagna, confermo, per l'agri-food tech. Cioè, numeri alla mano, contati, però, attenzione, guardate qui, a livello di originazione sì, è così, ma quando si passa invece al pre-seed e al seed, la campagna sparisce. E non soltanto la campagna, cioè, c'è generalmente abbastanza un tracollo di tutte le regioni del sud. Cioè, di nuovo, c'è un problema di accesso al capitale di rischio e in particolare a quella fase critica il pre-seed e soprattutto il seed. Possiamo andare alla prossima? E dove nascono le start-up italiane? Un po' ovunque, in tutti i settori. In tutti i settori. Siamo, diciamo, da questo punto di vista, questa è una categorizzazione che fa un'organizzazione molto nota, che Sara conosce sicuramente, si chiama AgFunder, allora hanno, diciamo, spacchettato questo mondo in questi vari verticali e noi siamo ben rappresentati un po' ovunque, però con delle vere, lasciatevi dire punti di forza. I punti di forza sono fondamentalmente l'agri-tech, diciamo, in tutti i servizi precision farming, lì abbiamo veramente una grande capacità che ci pone abbastanza ai vertici. Nei nuovi foods, quindi nei nuovi concetti di food, e in questo senso non dovremmo probabilmente sorprenderci, nel mid-stream, e che mi sto immagino, è anche in renewable farming systems, quindi tutti i sistemi di idroponica, coltivazione indoor, eccetera, eccetera. Ok, possiamo andare alla prossima? Va bene, però come dicevamo c'è questo gap grosso, questo è un, sono due grafici che hanno fatto i nostri amici di forward fooding, che sono anche membri dell'associazione, come vedete l'Italia in termini di aziende, loro fanno una classifica che si chiama una specie di Fortune 500 delle migliori start-up agri-food-tech al mondo, l'Italia è sempre tra il quinto e il settimo posto mondiale, a livello europeo, vedete, questo è l'ultimo dato, l'Italia è quarta, però quando andate a vedere l'ammontare del capitale investito, l'Italia è molto più bassa, addirittura nel 2019 la Spagna ha investito 25 volte più dell'Italia, per darvi un pochino l'idea di quanto, abbiamo recuperato molto, negli ultimi due anni, abbiamo recuperato molto ma c'è molto da fare, ok, e ripeto, il problema è soprattutto a livello di SID, sì sì, possiamo andare alla prossima? Grazie, ok, quindi che cosa abbiamo fatto, siccome sentiamo che ci sono un po' di problemi strutturali, abbiamo costituito questa associazione, è un'associazione totalmente volontaristica, non abbiamo, sottolineiamo, c'è il Annone che sottolina il volontaristico, non abbiamo l'ambizione assolutamente di diventare un'associazione di categoria, perché lo facciamo? Come vedete, questa è una piccola platea dei vari soggetti che stanno facendo l'ecosistema in questo momento in Italia, ok, che cos'è che li caratterizza? Quello che noi chiediamo, intanto non abbiamo l'ambizione di essere un'associazione di start-up, ok? Ci sono organizzazioni molto più brave di noi a gestire come start-up Italia quello che sta diventando adesso, adesso si chiama Innovab, esatto, adesso si chiamano tutte le nomi, Innovab, mentre invece VCIAB è diventata Tech Italia, Italia Tech, vabbè, ci parliamo con loro e li supportiamo, la loro missione è quella di aiutare le start-up, noi invece vogliamo veramente lavorare a livello di abilitatori di ecosistema perché pensiamo che è importante mettere questi per contribuire insieme per contribuire a alimentare il sistema e che cosa facciamo? Possiamo andare alla prossima? Molto semplicemente la prima cosa che facciamo direi forse quella che facciamo prevalentemente anche se Sara partecipa poco è fare networking tra di noi intanto cioè intanto condividere un po' l'informazione tra di noi ma anche provare a fare un po' di advocacy presso le istituzioni stiamo facendo un po' di webinars tra di noi ma vogliamo farne anche per il pubblico aperto sui varie tematiche diciamo di interesse comunicazione soprattutto è l'effort volontaristico di Annone lì e anche facciamo degli eventi o comunque contribuiamo a fare degli eventi e con questo direi vi ho annoiato abbastanza questo è il consiglio direttivo cioè quelli che veramente i sadomasochisti che si impegnano diciamo non dico quotidianamente ma ci provano due l'avete già conosciuti Sharon Antonio ci sono io ci sono altri due Max che è la presenza italiana di Ford Fooding e Chiara Satti che è un personaggio storico dell'innovazione dentro confagricoltura e con questo vi ringrazio grazie mille Peter non potevate mancare alla settimana dell'agri food della commissione europea grazie mille